Poi, mangiamo la torreste Non si vede Un mini tour di Perugia Questa è l'università per stranieri Penso che già ve l'abbiamo mostrata 20.000 volte Sì Questo è il nostro ristorante di sushi per perito Ce ne stanno un paio Quello là in fondo è il bus che porta a casa mia Cioè a casa mia, nel mio paesino Guardate che bella via Che bella via Via col vetro Già ve l'abbiamo fatta vedere, credo No, non mi fai più no Sempre scale qui a Perugia Sempre scale Ma comunque questo è il posto Non so se è aperto Questi sono tutti i prezzi Non sono altissimi Cioè nel senso ci può stare Guardate belli Prendiamo quella al cocco? Subito Ma guardate che bella che è Sì, veramente carino Poi vi facciamo vedere i cupcake che abbiamo scelto Quanto è speso? 5,60 euro Vabbè dai, nemmeno tantissimo Ci sta, ci sta Sì, per due cupcake Vuoi dire che non mi mancavano per niente le scale? No, Stefano non mi ama Io volevo fare il geologo Vabbè dai Dato che sto mangiando tanto e sto facendo poco esercizio Guardate che bello il centro in zona arancione Pochissima gente Quello che sta saltando non so chi E niente Ora stiamo andando a prendere Una delle pizze più buone che abbiamo mai mangiato Da quando eravamo piccoli a Perugia Se sei di Perugia tu conosci questa pizzeria Comunque guardate c'è l'entrata È comunque dall'altra parte dove avete visto Ma si esce qui sul veicolo Ho detto che faccio una pizza ora di un ascolto? No, non farlo No Diciamo che oggi merenda bella sostanziosa Sì È bello che noi potiamo prendere una cosa a testa Ma perché non l'abbiamo fatto? Perché a me mandava uno spicco interro di questa pizza Sì, però i cupcake All'inizio volevamo prendere la crepe Solo tiene la creperia chiusa e viene pizza Voi penserete È molto più bello farle in discesa No, non è così Queste scale sono strane Perché non sono né corte né lunghe Non sono né basse né alte E quindi in pratica guardate Cioè tu non sai che posso fare Lungo, corto Quando cammini sembra un po' spastico Comunque ragazzi guardate Pensate sia un'elicola Invece è una libreria Come ce l'aspettavamo È buonissima La migliore in centro Non è cambiato in dieci anni Sempre guai No, non vedo l'ora di mangiare il cupcake 9 episodio Staff e Mary mangiano in macchina I car Ah, ok Stiamo facendo il car eat Mukbang I video che ho addio di più No Ora mangiamo i cupcake Perché c'è un bicchiere? Io ho preso il red velvet Tu hai preso quello al cocco, no? Sì Ah, il bicchiere per non farli tipo portare su e giù Che belli Aspettatevi, facciamo vedere Il mio è più bello No Tanta roba Il mio è buonissimo Mmm, il ciotto è buono Certo Ragazzi, quando andavo a scuola E facevo lo stage all'università per stranieri Ci stava caffè pinturicchio Che fanno sempre cupcake così E io praticamente ogni giorno Quando avevo la pausa andavo a prendere il cupcake Da bomba anche per Caperugia Capito, queste cose si trovavano poco Avevano aperto questo bar americano Ed era molto figo Spiegatemi se è normale Spiegatemi se è normale Mi piace trollare i cani Stefano sta infirmando il bel mondo Buongiorno Buongiorno amici Fino a 5 minuti fa c'era il sole Sì, Buddy come sempre E ora non c'è più Però non è freddissimo oggi Buongiorno a tutti Non so perché ho fatto così Vabbè Comunque oggi inizierò una sfida di 7 giorni Quindi la vedrete tra una settimana a partire da oggi E speriamo di farcela Tengo le dritte incrociate E ce la metterò tutta Ragazzi voi pensate che io possa lavorare in pace Invece no Invece no Io sempre qui presente A farmi compagnia Però come faccio la voce Sono pronto per uscire E là c'è forum Ma ve lo guardate forum? Ma quanto riuscite a nomare Vabbè Ciao amici Oggi siamo di nuovo in centro Come potete vedere Stefano è andato a pagare il parcheggio Perché anche oggi dobbiamo girare i video Siamo già teletrasportati in centro E stiamo andando a registrare altri video Perché io ho girato la scena in macchina Comunque è fortuna che c'è quest'albergo Comunque da non credere Su sei ristoranti che abbiamo cercato Sono tutti chiusi Su internet si era scritto però che erano aperti Però possiamo capire Visto la situazione Ragazzi ci stiamo imboscando Per mangiare un pezzo di pizza Ma chi l'avrebbe mai detto? Comunque siamo in un vicolo storico Comunque fanno queste cose da sport veramente carine Sì sono uniche Qui fanno la torta al testo che è tipica Umbra Ed è veramente buona Non è una torta col testo sopra È tipo una piadina Piadina sì Questa musichetta del padrina è proprio Ora mi mangio a mezzoglio Una delle cose che mi mancava più di vivere in una piccola città È questo Quale? Questo È vuoto A Parigi non importa C'è sempre gente Sempre Poi camminare in mezzo alla piazza Anche questa cosa mi mancava Che a Parigi non c'è Sì 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 Verrà verrà Star Femmery Che ha scoperto i vicoli di Perugia Per andare a mangiare Una cosa impossibile Infatti noi volevamo fare un sacco di video dove mangiavamo ma Senti come scricchia là Buonissima Ma c'è il sole Guardate Eccomi sono qua Adesso torniamo a casa Perché Stefano si deve andare a tagliare i capelli Capello Stiamo andando per la prima volta al nuovo Conad che hanno aperto Che sta vicino allo stadio Mamma mia due vecchietti siamo Buongiorno a tutti Ora sto andando da Mary E oggi è il secondo giorno della prova che sto facendo Prova possiamo chiamarla così Anche sfida E il primo giorno è andato abbastanza bene Speriamo che anche oggi andrà bene E la vedrete presto Ragazzi a Pontifaceno c'è il mercato Che bello Ah è vero non ve l'ho detto ma mi sono tagliato i capelli Le ho tagliati ieri Quindi ciao Uri Piccolo spoiler per un video che uscirà a breve Eccolo qua Non vi faremo più vedere niente Provate a indovinare di cosa si tratta C'è ovviamente Decathlon Sapete cos'è però Il format del video Girati Che fashion Ora il rapinatore Poi Ciao amici Anche oggi siamo stati tutto il giorno a Casina Abbiamo montato il video che uscirà domani Cioè venerdì scorso Eh beh sì infatti Che è uscito venerdì scorso È il video su quanto costa vivere in una città universitaria Quindi qui a Perugia E andatelo a guardare Se ancora non l'avete fatta Perché è veramente bello Ci abbiamo messo tanto impegno Ed è figo Andate a guardare Intervistiamo anche un nostro amico che vive qui a Perugia Buongiorno amici Oggi c'è bel tempo Guardate Chissà cosa andranno a fare oggi Stas e Mary La differenza tra me E Stas Avete mai visto un cornetto grande quanto una testa? Ve lo facciamo vedere noi Sì Il mio è già mezzo mangiato Buonissimo È troppo buono Siamo andati in questo forno Cornetteria artigianale Che in teoria sarebbe una cornetteria notturna Solo che ora è aperto fino ai nove di sera Ha dato le restrizioni E ragazzi È gigante Io l'ho preso al kinder E l'ho al pinguino E io lo voglio assaggiare Ed è una bomba veramente Cioè è super buono E non costa nemmeno tanto Costa sui Due euro Due euro sì più o meno Oh l'arpa Ora in posto produzione Metterò una canzone Oggi è sabato E sono già incazzato Perché mi sono svegliata alle otto e mezza Poi mi sono addormentato E mi sono svegliata alle dieci E quindi ho perso tempo Dovevo farmi la doccia La barba e tutto Quindi ho dovuto Perdere il tempo E ora sono le undici Guardate quanta nebbia in superstrada Non si vede niente Non si vede niente Buongiorno ragazzi Già l'ho detto io Ragazzi guardate che giornata Se andiamo senza giacca È troppo bello Mi mancava troppo la primavera Era la mia stagione preferita Che bello Fare così Gli olio e le giacche Che bello sono 18 gradi Chissà a Parigi quanti gradi saranno in questo evento Ora controllo A Parigi sono 9 gradi e piove Quindi super felici Che bello Grazie Buona domenica a tutti raga Ho il mio taccuino Che abbiamo registrato il video ieri Abbiamo dovuto pubblicare oggi E ci siamo fatti un mazzo Per pubblicarlo in tempo Ma non ci siamo riusciti E in più la connessione Non ci ha aiutato per niente Ci ha messo un'ora e mezza Per caricare un video E niente E quindi ragazzi è triste È triste Perché noi volevamo fare anche una sfida All'aperto Di una durata di un mese Ma non si potrà fare Perché appunto Le restrizioni E così via Ci possiamo spostare Da una casa all'altra Una volta al giorno Solo che A casa ci sono i nostri Non abbiamo posto Dove fare video Se no le idee ci sono Perché se torniamo a Parigi Comunque a casa Dovremmo farli video È questo il problema E quindi Dobbiamo organizzarci Geremo in terrazzo Perché no Possiamo creare Il nuovo format Viviamo per una settimana Sul terrazzo No perché le temperature Dicono che scenderanno Quindi non voglio Da oggi Esatto Però si sta bene Non è freddo E comunque ragazzi Ci vediamo nel prossimo vlog E nei prossimi video Ciao Questo sarà un mini aggiornamento Stop e Mary Passione monopattino Stefano i monopattini Anzi Elettrico Ciao Grazie.